Appendamento 3.3 di Stefano Maglio. Se nessuno chiede di parlare ho metto in votazione parere contrario di Commissione e Governo e aperta la votazione. Lainati, Fratoianni, Ermini, Cuperlo, Cecconi, Simone Valente. Sì, è chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo alla votazione dell'articolo 3. È aperta la votazione. Baruffi. Adornato. Santerini. Cominardi. Mi pare che ci siamo. È chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo alla votazione dell'articolo 4. È aperta la votazione. Fratoianni. Ci sono altri? Non vedo mani alzate. Rotta, Rotta, Palma, Occhiuto. Ha votato. È chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo al voto finale. A facoltà di intervenire per dichiarazione di voto la deputata Nissoli Fitzgerald. Prego, onorevole. Grazie. Onorevoli colleghi, l'accordo al nostro esame, al pari del precedente con la Moldova, si inquadra nell'ambito della politica europea di vicinato attuata attraverso il partenariato orientale, di cui gli accordi di associazione sono parte fondamentale, come in questo caso. Questo significa, come abbiamo visto per la Moldova, la definizione di un'agenda per le...